Ciao a tutti amici Io sono Buddy E oggi recensiremo L'Eppy Meal dei Minions Settimana 2 Allora Ragazzi Nella scorsa settimana La settimana 2 abbiamo trovato Gli stessi personaggi Che abbiamo trovato ieri Ma oggi non recensiremo i personaggi Bensì Il Telo Mare dei Minions E chissà che cosa abbiamo trovato Ragazzi Allora Questo Telo Mare Si può trovare dal 2 luglio Dal No dal 2 luglio Dal 5-7 luglio Che si può trovare Da un Un Mac Un Mac Un Mac Menù O un Eppy Meal Con un contributo di 1 euro e 60 L'Eppy Meal costa 6 euro Quando prendi un Eppy Meal Il Telo Mare Dei Minions Il Telo Mare Dei Minions Ragazzi Del McDonald's Guardate McDonald's Sono biodegradabili Prodotto da Bonus Market Productions E guardate qua Consigli e raccomandazioni Lavare prima del primo utilizzo Lavare separatamente ad altri tessuti Che possano rilasciare i pelucchi Utilizzare dei delgeri Non usare l'abomobbidente Stirare a bassa temperatura E noi abbiamo trovato Questo qua Dove ci sono raffigurati Tutti i 3 Minions Vediamo Qua abbiamo Il logo Dei Minions Come Gru Diventa cattivissimo Il secondo film Della saga Allora Questo è Bob Poi abbiamo Kevin E poi Abbiamo Steward Aspetta Dove è Steward? Ecco Questo attello è molto grande Aspetta Ecco qua Prodotto da Bonus Market Ragazzi Come sorpresa Dispondo Ciao Come so cari Illumination Presenta Minions 2 Come Gru Diventa cattivissimo Bob Carrie E Steward Abbiamo trovato Tutti i 3 Minions Chissà Se corrispondiremo Io voglio Terramarico Steward Il mio Personaggio Preferito Va bene La prossima settimana non ci sarà più le Pimmi dei Minions e dedichiamoci a qualcos'altro al posto delle Pimmi dei Minions metteranno un video sulla recensione di Calisota Summer Camp, Musica Calisota e altri video bellissimi in cartoni passerelli e youtube pop di dei cartoni matichine ferrello e tanti altri ragazzi iscrivetevi al canale mettete più mi piace condividete commentate e alla fine del video vi lascio la playlist e la puntata presente e noi ci vediamo al prossimo EP Bill forse a luglio ciao